e benvenuti in questo nuovo video io sono il medicissimo oggi andremo a cominciare la serie su clash royale cominciamo con un chest opening chest opening della madonna vedete qui posso aprire tutto potrei aprire pure questo però manca poco se vi va di aspettare io lo posso legge male per due giorni vado le ciance e cominciamo il video bene 4 contesti bravo mortaio oh estrattore lo utilizzo è buono buono oro mortaio sfora infugata domina epica ok anche se non lo so va bene allora cominciamo un po' se non mi fanno più schifo di tutti oro bombarolo sgherri bene l'altro oro barbari corda di sgherri oro fornace attenzione lo spirito del fuoco chi viene fuoco dai giambiamo questo io ho tutti e due tutti quanti due carte porca puttana oro spirito del fuoco orde di sgherri bene ragazzi è arrivato il momento di aprire con la un pochino più importante dai questo qua va bene dando vi invito a mettere un like qui sotto cominciamo il video cioè cominciamo il video porca puttana ma che cazzo dico cominciamo a del libro della cronaca ormai l'ho aperto la cronaca ormai l'ho aperto di trovare la cina c'è l'ho con la scuola rischio ora me lo miglioro raga preghiamo mi dispiace non c'è la leggenda ma non c'è la leggendaria c'è una epica lo specchio però lo utilizzo bene vaffanculo ma staccido ma vattene vaffanculo vogliamo uscire ragazzi questo video non termina qua però vi ho trollato facciamo un po' di battaglia così facciamo un po' di battaglia speriamo di non ci sia un altro video però per la parte guarda adesso allora che sarà domani uscirò un altro video domani uscirò un altro video sempre in questo modo sperando che Io sono l'unico ancora che non ho trovato nessuna carta leggendaia, guardate qua, ecco, guardate qua sotto, tutte mi mancano, vabbè ovviamente lo so qua con l'uscita della nuova leggendaria dell'interno, vabbè, dai facciamo qualche battaglia per vincere qualche balla di merda, perché di vincere due led, sanzite, anziché vincere, bello, l'uomo speriamo. V ambiamo facile, ving a vedere l'uomo, ok dai, ok dai cazzo, facciamo cuore sulla nasce l'uomo, forno, ho letto la a te troppo dimmi da non giocare la freccia dimmi da non giocare la freccia bravo così però c'è anche lui vai muori no 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 ok una torre non ce l'ha più se mi dite che ce l'ha ancora mi secco mettiamo anche un altro mini pack guarda le schede per tanto per così diamo un po di spazio tanto nuore tanto era nuore guarda per la partita per la partita non voglio assodire la partita mettiamo la faccina così un baule d'oro ok cominciamo con i baule così qua me li sbloccherò dopo che li avrò aperti i ripi allora ragazzi la cosa è il baule per trovare un baule è